Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono FiniGaming e come vedete oggi siamo di nuovo sulla FiniCraft Perché, rega, io ero qua che stavo cercando un bastione, una fortezza per fare il video Rega, mi sono girato così e ho trovato un bastione enorme così a casa, rega, quindi in questo episodio lo andremo a esplorare Mi raccomando, rega, lasciate like e iscrivetevi perché a 10 like farò il prossimo episodio della FiniCraft E niente, rega, iniziamo subito Allora, direi di andare fino in cima Oppure, rega, entriamo direttamente qua, non so cosa mi conviene, vabbè, proviamo ad entrare direttamente qua Aspetta, teniamoci un attimo così, chiudiamo, però, rega, non so perché, vabbè, non chiudiamo perché se no dopo, rega, se devo scappare, non ho via di fuga Allora, vediamo se ci sono bruti Per adesso non mi sembra Ok, stiamo attenti, rega, che i bruti ci ammazzano con pochissimi colpi Ok, rega, questo piano dovrebbe essere safe Ok, per adesso non mi sta pushando nessun brutto Strano, ok, rega, lì c'è uno con la balestra, lo dobbiamo uccidere perché se no dopo, quando sono a prendere i lingotti d'oro, rega Mi butta giù Ok, rega Dovrei essere al sicuro, lì c'è un brutto Attacchiamo, rega, così arrivano tutti da noi E li uccido subito perché se no, rega, dopo mi danno Mi danno noia mentre cerco di prendere l'oro Quindi cerchiamo di ucciderli tutti subito Ma mi sta che ce n'è solo uno, rega, però è strano che c'è così poca gente Nel bastione Non so perché mi stia ragando così tanto, però uccidiamoli in fretta Vai, rega, è morto Direi che... Ah, sono... Sento il rumore, rega, mi sa che sono qua sotto, vero? No Ah, lì ce n'è uno Vabbè, rega, dovrei essere al sicuro Uccidiamolo, rega Ok, dove è finita? È lì Ok, rega, è morto Vai, rega, direi che possiamo già andare a prendere l'oro se non c'è altra gente qua sotto Però non mi sembra, quindi andiamo Let's go Vabbè, rega, ma non c'è nessun altro Allora, cerchiamo di fare in fretta che se no dopo arrivano tutti Adesso che prendo l'oro, rega, se ne accolgono anche tutti i piglin Quindi mi preoccupiamo di attaccare Quindi, rega, cerchiamo di fare in fretta Apriamo anche la cassa adesso Ok, rega Allora, apriamo la cassa Uh, rega, buono Ehm, mamma mia, rega, ma quante roba c'è Allora, trasformiamo tutto in ferro Così le posso tenere in uno slot solo Perfetto Poi rega, orate i due pezzi di armatura Mamma mia E poi rega, pure I am Rade Dergit Che però deve essere ancora trasformata Ok, rega, direi che questo qua Questa chest qua aveva un bel loot Poi Proviamo, rega, a vedere in quest'altra chest qua Che ho visto adesso Una spada con distruttibilità 3 Una mela d'oro Che me la prendo volentieri Al posto Della farni marcia Poi Non c'è nient'altro di interessante Rega, proviamo ad andare dall'altra parte Delle bastioni Adesso Rega, esco E torno su dall'altra parte Usciamo veloci Ok, prendiamo, rega Ce l'ho abbastanza blocchia Beh, direi che sì Proviamo, rega, ad andare dall'altra parte Quindi Cerchiamo di Ok Vai, rega Andiamo su adesso Perfetto, rega Dobbiamo arrivare fin su in cima Così possiamo andare dall'altra parte Ok Così, rega, riusciamo a prendere altri pezzi Altri blocchi d'oro Eccola qua No, rega, dov'è? Aspetta, forse è un po' più in là Eccola Eh, rega, vedo già un bel po' di Di bruti Non so come farò Non so come farò Ok, rega Adesso, rega, mi attaccano tutti Quindi devo cercare di Sopravvivere Allora Colpiamo quello lì in testa No, ok Aspetta, se riesco a colpirlo da qua Magari lo faccio cadere Bam Ok, perfetto, rega, è caduto Eh, rega, però prima o poi le finisco le frecce Eh, ma da dove sono arrivata? Ma? Quanti brutti ci sono? Non voglio saperlo No, rega, ecco qua Ho finito le frecce Eh, adesso come faccio? Dovrei prendere della lava Rega, questa qua la posso prendere Senza morire Aiuto, non avvicinatevi Ma perché mi lagga così tanto Che non riesco neanche Ok, rega, perfetto No, c'è un ghost Ok Vai, vieni Ah, perché se ne sono andati Proprio adesso Che volo la lava Dai Ma perché devi rompere, ghost? Allora, rega qua Ah, perché devi rompere? Lasci in pace Adesso sono in una In una difficoltà, già, rega Sono in difficoltà A lutare il bastione Poi arriva pure il ghost Che mi sta laggando Non vedo neanche la palla, rega Beh, meglio così Prendiamo, rega, altri blocchi Ok, rega Qua dovrei essere sicuro Vado qua E metto la lava Ok, rega Morto Vai, venite Eccolo qua Vai, muori anche te Ah, sta ammazzando anche l'altra Così Allora la rimetto Vai Ok, morto anche quello Ok, rega Dovrebbero essere morti tutti Teoricamente Se non mi sbaglio Quanti ce n'erano all'inizio Posso Ok Vabbè, rega Questo qua Non li prendo neanche Le frecce, sì Che mi fa incomodo, però Ok, rega C'è un altro Detrito antico Prendiamo le frecce Eppure gli ossidiani In caso che non ritrovo il portale Perfetto, rega Poi, vabbè Questa qua Questa spada Non mi interessa E queste due pezze di armatura Non mi interessano Perché ho già trovato Quello in diamante Ok, rega Poi ci dovrebbero essere Altre ceste Tipo Ecco lì Aiuto Per sicurezza, rega Metto la lava qua In caso che Qualcuno Volesse arrivare Così muore Allora, rega La costruita Di maglia di alicotter La posso anche prendere Velocità dell'anima Rega Oh, non mi interessa Vabbè, dai La prendo Poi, rega Questa spada OP Affilatezza 3 Indistibilità E saccheggio Mamma mia Ma la sostituisco Subito Ok, poi qua invece Un derititrantico E qua ce n'era uno No? Ok, rega Posso fare un pezzo Di nederite Per farmi il piccone Oppure un pezzo di armatura Oh, siamo già messi bene Ok Ok, rega Dovrei aver lottato tutto Cerchiamo un po' Di blocchi d'oro Qua intorno Magari O se no, rega Mi accontento Già così Adesso, rega È l'ora Di scambiare Quei peeling Per prendere L'enderpearl Allora Trasformiamo subito Tutto l'oro In Cioè Tutti i blocchi di oro In oro Ok Questo qua Lo possiamo buttare E vabbè Rega Quanto ce ne ho Mi sta occupando Tutti i spazi No, rega Questo qua È Raro Cosa potrei buttare Vabbè Rega L'ho 5 Cosa me ne faccio Di 5 Che ne ho Un miliardo Un miliardo Rega Ne ho tantissimo Ormai Cosa me ne faccio Di 5 Che Allora Rega Ok Qua facciamo Un piccolo buco Vai Vai qua dentro Perfetto Buttiamo Una stacca intera Perfetto Poi rega Non viene nessun altro Siamo sicuri Vai Muori bruciato Te Ma perché Ma perché Oh Vale Dovrebbe morire Perfetto Vabbè Rega Mi ha dato La carne Perché Ho bruciato Anche quella Dai rega Ma non c'è Nessun altro Piglin In giro Cioè Ci metto Un botto A commerciare Tutte queste Stack D'oro Con soltanto Un piglin Vediamo se mi ha troppato Ender Perle Però Per adesso Non mi sembra Rega Non c'è Nessun altro Dai Non ci credo Rega Dove potrebbero essere Altri Vabbè Vabbè Per adesso Rega Ci vediamo Quando ha finito Di scambiare Tutto Ok ragazzi Qua mi ha già troppato Sette Ender Perle Si è giunta Altra gente Come vedete Rega Vabbè Con lì Non ci doveva andare Però Gli altri Tre Cioè Gli altri Due Si E rega Mi sono accorto Soltanto adesso Che io sono arrivata Da quella bastione Lì Sono andata qua Ho fatto la buca Ho messo dentro Il piglin Ma non mi sono accorto Che proprio davanti Avevo un altro bastione Rega Quindi Scrivetemi Nei commenti Di questo video Rega Se volete vederlo Comunque rega Anche se non mi scrivete Niente Se questo video Arriva a 10 like Faccio il prossimo episodio Faccio il prossimo episodio Invece rega Se questo video Arriva a 15 like 5 in più Vabbè rega Dai ce la potete fare Se questo video Arriva a 15 like E andrò a esplorare Quel bastione lì Se no invece rega Se arriva soltanto a 10 Rega Farò altre cose Ok ragazzi Quindi mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi Adesso Rega controllo Quante roba Troppato Si hanno droppato Altre Altre Ender Perle Vediamo 13 Ok rega Buono Abbastanza buono Qua però Mi sa che E' finita la cosa Per scambiare Cioè Io Hanno già Ok rega 15 Ok rega Mi basta Non mi sa Vai Adesso rega Posso già liberarli Tanto mi hanno già dato Tutte le ender Perle 16 Addirittura Ok Ok Però adesso Il problema Come faccio Vabbè Rega È vero Che io Ho le ender Perle Ok rega Scappiamo Perfetto Facciamo Una scaletta Qua Per uscire Ah Non ha ancora Finito l'oro Vabbè Adesso dovrà Oh Comunque Vedo Altre Ender Perle Vabbè Rega Adesso Aspettiamo Rega Finché Non finiscono Mi raccomando Rega Lasciate tutti I like Che 6 15 Like Guardate Lì Quanto Quanto Ora Poi non immagino Neanche Il loot Che ci sarà Dentro Un bot Di loot Ci sarà Morto Vabbè Con un corpo Quando finiscono Loro Rega Oh Forse L'han finito Perfetto Vai Andate Via Oh Ma Mi ha rubato I piedini Che Forse Quelli Me l'hanno droppati Vabbè Comunque Vediamo Se c'è Rave Interessante Però Non mi Sembra Oh Ok Rega 16 Ender Perle Rega Mi bastano Già In realtà Mi potrei Già Andare Nell'end Rega Perché Di fianco Al portale Ho anche Una fortezza Che In cui Arrinizio Della serie Non so Se vi ricordate Ma ho preso Un sacco Di Blade Zroot Quindi In realtà Ce le ho Già Però Rega Aspettiamo Un altro Po' Di episodi Per andarci Adesso Torna A casa E Ci vediamo Rega Quando Sono tornata A casa Oh Rega Ok Finalmente Rega Sono tornata A casa E Adesso Raccogliamo Un pochino Il grano Visto Che Ha Cresciuto Altro Grano A Bene Ok Depositiamo Ah no È vero Che devo fare Ok Rega Adesso Ho il materiale Per farlo Perfetto Ho il materiale Per farla A cassa Rega Allora Perfetto Rega Facciamo Un'altra Doppia Cassa Visto Che Non ho Spazio Direi Di farla Qua Così A caso Ah no Praticamente Così Copre Ah Dove la faccio Vabbè Così Ok Rega Qua Dobbiamo Depositare Un botto Di roba Allora Rega Depositiamo Tutta Questa Roba Qua Comunque Rega Ho notato Che ho finito L'oro C'è Quella Cosa Lì Quindi Eccolo No Ok Rega Posso Ancora Trasformarlo Ok Le Carote Me le Tengo La Ok Rega Questa Qua Dovrebbe Essere Tutte Le cose Da buttare C'è Non Da buttare Rega Da Da tenere Qua Che non Mi Servono In Missione Facciamo Un bel Lingotto Di Nederite E Non è che Andava Fatta Rega Tipo Così No Vabbè Non Mi Quindi Prendiamo Dov'è Il Blocco Di Alga Essiccata Che L'ho Fatto Non Dirmi Che L'ho Perso Rega Era Utilissimo Dai Vabbè Usiamo Del Carbone Normale Sto Per Finirlo Devo Fare I Fornimenti Carbone Rega Poi Devo Tra Anche Un Incantesimo Di Fortuna Tre Rega Se Riesco Così Me lo Metto Alla Piccozza Diamante Dopo Diventa Forte Così Rega Trovo Più Diamanti Trovo Più Carbone Trovo Più Lapislazuli Trovo Un botto Di Roba In Più Ok Adesso Direi Basta Far Sponare I Polli E Ci Teniamo Le Uova Per Far La Farma Quindi Rega Basta Farli Sponare Ok Rega Vai Facciamo Un Lingotto Di Nederite Perfetto Allora Rega Per Adesso Non Lo Faccio Ancora Questo Questa Cosa Ragazzi Perché Non So Magari Forse America La Faccio Prima Della Spada Scrivetemelo Nei Commenti E Ragazzi Ci Vediamo In Un Prostimo Video Mi Raccomando Lasciate Like Iscrivetevi Al Canale Perché Deve Arrivare A 15 Like Per Esplorare Il No Bastione Ciao